Luce è perfetta, il suo ultimo romanzo che parla di passioni ma anche di tradimenti e di perdono, tema di questo festival francescano. Ci può leggere questo romanzo alla luce del perdono? Beh già il fatto di decidere di scrivere una storia di questo tipo è una forma di perdono. Gli scrittori spesso scrivono per perdonarsi di quello che hanno pensato perché la letteratura chiaramente deve attraversare strade non troppo lineari, non troppo chiare. Uno che fa questo mestiere deve misurarsi spesso con la sua personale inquietudine, la sua personale oscurità. Però il fatto che poi il romanzo esista, prenda la luce, è una forma di perdono tutto sommato. Vuol dire che da quello scrittore non ci sarà niente da temere. Ho più paura di quelli che questi stadi di nerezza, di inquietudine, li vivono dentro di loro, magari nel loro ambiente e li trasmettono per altri versi. Quindi la scrittura anche come strumento liberante? La scrittura è tantissime cose, per quanto mi riguarda è proprio uno strumento di sopravvivenza, come dire l'aria e così via, ma perché la scrittura è il mio mestiere. Io direi che la fase più liberante della scrittura è la lettura. La lettura è un atto veramente liberante, è un atto che apre universi, che costituisce senso critico, che regala punti di vista, che dà la possibilità di considerare una faccenda da un lato che non si era abbastanza considerato. Insomma, la lettura ci fa grandi e la scrittura deve considerare questa responsabilità. Ricorda un fatto di perdono all'interno della letteratura italiana o internazionale? Beh, io sono notoriamente un appassionato di Promessi Sposi, quindi è il nostro romanzo fondativo da tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, politico. Non dimentichiamoci, Promessi Sposi nasce con una minaccia mafiosa, insomma. Quindi, evidentemente, il signor Manzoni qualcosa di questa nazione l'aveva capita, ma poi è un grande romanzo sul perdono ai Promessi Sposi, più che sulla redenzione o sulla provvidenza. È proprio un romanzo sulla forza della responsabilità e dell'onestà. Ecco, questo mi sembra importante ed è per questo che ancora oggi nel nostro paese è un romanzo rivoluzionario da tutti i punti di vista. Quindi, noi siamo un paese che ha quelle caratteristiche lì, che vive secondo quegli schemi e quel paradigma. Siamo un paese complesso, siamo un paese giovane, abbiamo una scrittura giovane, nei Promessi Sposi del 1840, quando moltissime altre realtà, ormai la forma romanzo, l'avevano sviluppata fondantemente. Siamo un paese di marca cattolica e su questo non possiamo, non credo sia discutibile questa cosa. Poi uno, come dire, la può considerare in senso più o meno critico, ma la critica, dal mio punto di vista, aumenta, come dire, il potere delle cose piuttosto che sminuirla. E siamo un paese costitutivamente problematico da un punto di vista della legalità e questo è chiaro. Ecco, quindi io direi che se dovessi, come dire, o tutte le volte devo perdonarmi di qualcosa che riguarda questo paese, come lettore io mi rileggo i Promessi Sposi. Grazie. Grazie a voi.